Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Almeno non è la mia auto Faccio vedo il treno, ci avviciniamo Vorrei allentare Merda, moto in arrivo Fingili fuori strada Via via Non puoi ucciderci tutti Uccidetevi Ho un prezzo Fuori dai piedi Fuori dai guardi Vincco terra Ormai è preciso Fanmi mussare Molto Capito Non è meno! Il treno! Ecco il treno! Sam! Occupati della zanna! D'accordo! Ci sono! Ci sono! Dateci dentro, signore! Oh merda! Buona fortuna! Penso se la caverà! Allora ti guarda! Beh! A lui la zanna! Ehi! Hai capito dove hanno messo quella cassa gigante? Alla locomotiva! Giusto! Dobbiamo raggiungerla! Merda! Merda! Non ci sono pigli! Di qua! Guarda dove vai! Sì! Proviamo dall'altro lato! Oh! Piano! Dov'è fuori! Oh, merda! Abbiamo compagnia! Uomini di esaboli! Forse abbiamo ancora l'effetto sorpresa Sorpresa! Non intendevo questo! Fermatela! Fermatela! Quiero do proprio lì! Oh, per la miseria. Oh, per la miseria. Merda! Ti pentirai di quello che hai fatto! Arrivano! Altre moto! Merda! I'm fighting! Oh, per la miseria! 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 Siamo ancora al sicuro! Forza, raggiungiamo la locomotiva! Fuori strada in arrivo! Hai buona notizia! No! Ammazzatela! Ammazzatela! È finita! Non puoi! Non puoi fermare! Per la miseria! Merda! Merda! Non può far rapicarmi sulla cisterna! Ci sarà un vado per proseguire! Io non lo vedo! non lo vedo! No! Non lo vedo! Iscriviti! VATELA FUOLE! Il piacere! Apre il fuoco! Apre il fuoco! Fuori ud, dobbiamo allontanarci! Trova a fermarsi, a spugnare! VATELA FUOLE! Bloccata in fuoco! Tieni giù la testa! Ok, qualche idea su come salire sul canto? Se ti avvicini, usiamo il ralpino! Stai scherzando? Non scherzo mai! Facciamo! Adì! Oh, merda! Oddio! Bella miseria! Ho attirato la sua attenzione! Ora! Dei colina arrivo, sul lato a fondo! Vuoi che ci pensi io? No! Guarda però! Spaggare un ragione! Ma non si arrendono! Ok, c'è chi... Palli fuori! Oh, merda! Maledizione! Non sembra di buon umore! E' un gran po' caldo! E' un gran po' caldo! Siamo stati noi! Proprio noi! Ok, questo camion non reggerà! Dobbiamo saltare! Ora! Dio, di chi è stata questa stupida idea? Tua! Lo scambio della zanna con una bomba, il dirottamento di un treno... Asaba ha pianificato tutto da mesi! Mettergli i bastoni tra le ruote sarà ancora più godurioso! Siamo quasi arrivate! Non si muove! Ti aiuto io! Questa è molto pesante! Vai! Faccio io! Ok! Facci a sé! Grazie! Oh! Oh, Dalvivo è molto più grande! Beh, è una bomba di uso militare! Vieni! Aiutami! Pesante! Sai disinnescarla? Se ci provassi esploderebbe! Allora piano B! Alla locomotiva! Vieni! Ok, vai tu! Possiamo passare di qua! Forza! No! No, no, no! Chi c'è? L'hanno soldato! Merda! Ehi! Dal tetto! No! Non pensarci troppo! Fallo e basta! Forza! Allora? Anche questo è saldato! Ci sarà un altro modo! Se hai altre idee, dille pure! Uno scambio! Cosa? Più avanti! C'è uno scambio! Potremmo attivarlo, deviare il treno e guadagnare tempo! D'accordo, ci sto! Oh, merda! Non puoi succedere! Ci siamo! Non puoi succedere! Marta, va lì! Forza, vai! Vai all'ultimo! Vole vizio! Non volete proprio lasciarci in pace? Non abbiamo molto tempo! Per la miseria! Sam! Ehi, Sam! Ehi, e adesso! Dobbiamo spostare il treno sull'altro binario! Ehi, Sam! Sam! Ah, dov'è Nadine? Di nuovo sul treno, dobbiamo azionare lo scambio! Guarda, fattolo! Questa non ci voleva! Ehi, mastardi! Ti resta un minuto? Ok, via libera! D'accordo, torniamo allo scambio. Aspetta, Nadine! Devo raggiungerlo! Aspetta, aspetta! Devi proprio, insomma, mi sembra piuttosto in gamba. Ok! Ah, che diavolo! Vai! Mi tengo impegnati! Ok, ecco il treno! Ma come diavolo faccio a salire? Non vedo nessun ponte! Ho attraversamento! Oh, merda! Ehi, ha funzionato! Oh, cazzo, il ponte! Marta! Marta! Oddio! Perché ci hai messo tanto? Dovevo prendere un treno! Sapete? Io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente. Ma voi due siete delle bastarde di prima categoria! Ci insulta! Credo proprio che mi divertirò. Tort! Fatemi vedere che sapete fare! Oh, cazzo, 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 cazzo! Volete rischiare la vita? Ma per cosa? Una città di bifolchi? Cazzo, sei insopportabile! Nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani! La mia gente insorgerà di nuovo! Torna indietro! Saresti dovuta venire! Prendila! Ma cosa? Questa è la mia terra! Cosa avreste da guadagnare qui? Oh! Conta più quello che hai da perdere tu! La bomba? Basterà comprarne un'altra! Brucerò la tua città, ladra! La tua gente mi potrà salvare! Nadine! Facciamola finita! Muori! Perché resisti? Bisogna capire quando accettare la sconfitta! Per te, finisce qui! Merda! Nadine, arrivo! Non salire! No, 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 no! Io ti conosco! Tu non sai cos'è l'eroismo! La mia guerra destabilizzerà il governo! Le pecore brameranno un nuovo pastore! E tu sarai morta in mano! Dovrete uccidermi mille volte per sperare di fermarmi! Oh, merda! Vorrei ricordarti il ponte! Sta zitta e combatti! Facciamola finita! Caglia maledetta! Avete rovinato tutto! Tutto quanto! La mia epurazione sarebbe stata magnifica! Perché non morite una volta per tutti? Qui abbiamo finito! Credete d'aver vinto? Ne verranno altri! E come giovane re non avete niente in mano! Avevi proprio ragione! Il progresso richiede dei sacrifici! Fraser, dobbiamo andare! Piccola struncia arrogante! Via! Forza! 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 Forza è la fine! Ora! Continuò! No! Forza! ella fine! Ora! Forza! Via, via, via! Potresti iniziare ad arrampicarti, ti va? Dio santo! Sam! Dai, salite, vi aiuto! Oh mio Dio! Basta carboidrati, cara! Lo dicono tutti! Dai, dai, dai! Oddio, grazie! Oh mio Dio! Come cavolo avete fatto a uscirne vive? A dire il vero non me lo spiego neanche io. Ehm, Asav? Caduto col treno. Ah beh, cos'è che capitano agli stronzi. Guardate che roba. Wow. Ciao. Ci siamo date da fare. E come? Quindi, qual è il futuro di Nadine Ross? La shoreline? Il traffico d'armi? Basta con la shoreline. Davvero? Davvero. A dirla tutta pensavo di dare un'altra chance a Racket dei tesori perduti. Conosci idioti egoisti a cui servirebbe una socia? Senti... Non tu. Ok. Mi spiace, ma lavoro solo con i professionisti. Già. Dov'è la zanna? Ce l'ha... Porco cazzo. Cosa? Senti. Stavo solo scherzando, eccola qua. Le vostre facce... Ah, io! Ok. Diavolo. Era l'ultima sigaretta. Cavolo, è splendida. Diamo. Quanto... Pensate ci frutterà questa roba? Ma... Il Ministero della Cultura ci offrirà una... Generosa... Ricompensa. Giusto? Socia? Vomito? Mi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete seri! Oh merda. Sì. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.